E' la prima volta che vengo a Pompei e nessuno è stasiato. Resta senza parole il premier Matteo Renzi al termine della visita alla Villa dei Misteri, accompagnato dal ministro della cultura Dario Franceschini per partecipare all'evento di Expoidee. Renzi arriva in mattinata a Pompei, di ritorno dagli Stati Uniti dove ha incontrato ieri il presidente USA, Barack Obama, e visita gli scavi partendo proprio dalla villa da poco inaugurata dopo quasi due anni di restauri. Ricevuto dal sindaco di Pompei Nando Iuliano e dal presidente della regione Campania Stefano Caldoro, il premier ha anche incontrato e si è congratulato con Raffaele Santoro e Valerio Conte, gli assistenti capo della polizia che una settimana fa salvarono una neonata abbandonata davanti a un bar di Villa Literno, praticandole un massaggio cardiaco. Il premier ha poi proseguito il suo tour percorrendo via delle tombe, via Consolare, passando per casa del poeta tragico, raggiungendo via Mercurio per visitare la casa della Fontana Piccola. Renzi è poi intervenuto a Expo Idee, parlando soprattutto di economia e sviluppo. Se c'è una cosa chiara è che dobbiamo avere la consapevolezza che chi ruba non soltanto ruba un pezzo di paese, ma ci vuole rubare un pezzo di futuro e merita una pena doppia. Per questo sui reati di corruzione abbiamo chiesto in Parlamento di aumentare le pene. Chi ruba non soltanto ruba un pezzo del paese, ma ci vuole rubare un pezzo di futuro e merita una pena doppia. Per questo sui reati di corruzione abbiamo richiesto e proposto in Parlamento di valorizzare le pene, di aumentarle. Un passaggio il Premier lo dedica anche sul futuro di Pompei e sulla situazione politica nel paese. La cultura è l'anima di un paese e l'Italia è in questo una superpotenza. Per Renzi riprendersi Pompei e dire che cos'è l'Italia che cambia. Riprendersi Pompei non è soltanto un fatto di dignità per una pubblica amministrazione. Riprendersi Pompei è dire che cosa vuole essere l'Italia nel mondo che cambia. Un presidio di civiltà, un faro di cultura, un luogo dove vivere un'emozione, perché non si può essere uomini e non rimanere a bocca aperta. Come in tutti i grandi eventi bisognerà mantenere alta l'attenzione, ma il lavoro che si è fatto e che si farà ci darà la sicurezza di un grande appuntamento che un grande paese come il nostro sa gestire. Così il Ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina parlando a margine della terza tappa di Expoidee. L'Italia può diventare a tutti gli effetti la patria del diritto al cibo e la patria della bellezza. Questo connubio può essere formidabile per noi e la scommessa di Expo che in fondo abbiamo lanciato anche questa mattina in questo luogo straordinario è proprio la scommessa di un paese che guarda al futuro. Soddisfatto il Ministro dei Beni Culturali e del Turismo Dario Franceschini che parlando a Pompei ha definito il nostro paese unico al mondo, l'unico in grado di offrire contemporaneamente differenti e bellissime espressioni di cultura. Ascoltiamo. L'anno scorso in un momento di crisi sono aumentati di più di 200.000 i visitatori, c'è un'attenzione internazionale e quindi vincere la sfida qua e venire qui a presentare Expo è un, come ha detto il Presidente del Consiglio, un fatto particolarmente simbolico, due sfide che sembravano impossibili che stiamo vincendo. Io dico che qui c'è un pezzo di futuro dell'Italia.